Amore per la vita, per la natura, per la felicità e per il benessere, lo slogan della prima edizione del Festival dell'Amore, che si svolgerà il 14, 15 e 16 febbraio prossimo a Morciola di Vallefoglia. I temi al centro del Festival saranno concentrati sui giovani, come intendono le nuove generazioni la città ideale, cosa deve essere una città dove vivere bene e quali valori devono essere seguiti. Questi temi cardine della prima edizione saranno sviluppati attraverso un laboratorio formato dagli studenti delle scuole medie inferiori di Pian del Bruscole di Vallefoglia, al centro commerciale Cento Vetrine. Il laboratorio si svolgerà come una sorta di confronto, tavola rotonda, gestito e organizzato dai ragazzi di Sistema Critico, un'associazione di ragazzi universitari. Lo scopo di questo laboratorio è ottenere la scatola dei valori del Festival di Vallefoglia. Si voleva far sì che alcune idee, che magari noi amministratori non percepiamo, venissero sollecitate e consigliate dai giovani che hanno una diversa visione sia del mondo che del territorio che vivono. Il secondo appuntamento previsto per sabato 15 febbraio riguarderà l'alternanza scuola-lavoro, dove i ragazzi aderenti al progetto potranno ascoltare le testimonianze di imprenditori locali che hanno trasformato la loro passione in un lavoro, riuscendo a creare imprese e realtà non solo di successo, ma anche innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale. Il benessere sarà un altro tema che verrà affrontato nella tavola rotonda, tema trattato attraverso un percorso nel territorio del Foglia, lungo le piste ciclopedonali alla presenza di assessori preposti. Tre giorni di coinvolgimento di giovani, di artisti, tre eventi musicali nel dopocena che si terranno al Morciola Sporting, qui vicino a fianco alle 100 vetrine. L'amore a tutto tondo, come si dice, è riassunto in questo bel manifesto che ci consentirà in un periodo, direi anche abbastanza vuoto di iniziative. È il primo festival dell'amore nelle Marche, è qui nel centro commerciale di Morciola di Vallefoglia e in modo anche per vivacizzare le economie e le attività commerciali. E vai! Grazie! Grazie! Prego!